Io dico che siccome ora questo calcio non è una scienza, io ora dai miei collaboratori che faccio i dati, mi faccio dare i dati, tipo le palle gordi, il processo palla, la supremazia territoriale, poi così almeno faccio parlare numeri, tanto qualsiasi cosa si possa dire, ognuno ha altro modo di vedere il calcio, accettiamo, però noi siamo contenti di quello che stiamo facendo con questi ragazzi che mi danno l'anima, giochiamo ogni due giorni, erano stremati, mi hanno fatto un gran calcio secondo me, oggi, hanno giocato molto bene, gruppo unito, grandi uomini, questa squadra me la sento proprio mia, sono contento di quello che mi danno loro. È molto bello sentirle dire questa squadra, me la sento proprio mia, visto che si parlava sempre del progetto di Mazzari, Somiglia, Mazzari, la squadra di Mazzari, Giorgio. Devo dire che Mazzari già l'anno scorso è stato molto bravo a gestire il passaggio societario, mi pare che sia stato molto bravo anche a conteggiare queste ultime turbulenze. Ti chiedo, ti sei dato una spiegazione del perché tu era l'improvviso diventato una specie di oggetto, il tiro al bersaglio, avrai notato battute poco opportune da parte dei presidenti, i tifosi illustri, ti sei dato una spiegazione? No, sinceramente no, non lo capisco, anche le ultime assurdità, per non dire di peggio, che a volte si dovrebbe essere un pochino, proprio noi come persone, si parla di razzismo, si parla di tante cose e poi siamo i primi che si dicono di dir sì. Comunque lasciamo perdere questo, io dico che l'ho conosciuto, è arrivato, mi ha trovato, senza fare tanti discorsi, ha guardato come lavora un allenatore, senza preconcetti. Sapete benissimo che quando c'è un cambio societario, di solito i nuovi proprietari cambiano direttamente, portano i suoi, invece secondo me anche il grande capo d'azienda ha contato il personale che c'era, chiamiamolo personale, che credo abbia fatto le cose da grande al presidente, arrivando a un momento particolare. Io non ho problemi, il problema è che quando si vince c'è o meno cose da gestire, ormai non è più più nominale vittoria, ormai c'è un po' di peso sullo scopo da tutte le parti, non ho problemi. No, ma lei è un emotivo, è bellissima, è un emotivo, noi ormai la conosciamo perché a me ci piace anche questo suo lavoro. Ha cambiato tanto, con l'età si cambia.